Amici, raggiungiamo l'altra tanta Piano cresce quello Digna d'altra Allora, non ci siamo ancora mai accampati Non ne ho ancora percepito il bisogno Ok, recessivo Ok Bene Ah, così? Guarda, questo non ti è brutissimo Ok, ecco Però voglio farlo più altrettanto Ok No? Ok, non è andato Ok 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 via 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 posso sicuro bene bene ok buono posso ottimo facciamo potenzial posso potenzial vediamo un quarto posso ok ok i i i i ok necessario un'abilità ma quale abilità? non so qual è abilità che non so qual è abilità che non sia sai che non so Non c'è un'idea, vabbè, andiamo, via, intanto quella tempale sta per me non capire come devo fare, cosa devo fare, via, madonna. Credo che siamo qui, e, sorpresa, sorpresa, questo posto è proprio come l'ultimo rompio che abbiamo visitato l'ultimo rompio. No, dobbiamo trovare qualche baleo e ricordare loro resina, e poi possiamo riuscire. Ma come sappiamo che sono le righti? Ok... Andiamo di là... Ok... Oh... Oh... What the fuck happened to this place? Looks like they had a huge earthquake, and then gravity lost to shit. This is what happens when a Tanta's power goes haywire. Be prepared for even more twisted terrain ahead. As if I needed any more reasons to steer clear of this woman. Ok... Vai... Faye, ti va a dire... Faye... Santo Dio... Ok... O ty... I'm sorry I'm sorry... No, that's all of you... Come come... värld... No, 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 no. MESSO, NO, NO. COVERA! I can't be that hard, she says. Just shut the fuck up for a second... Ok, thank you... Il bambino in Sopal è stato spettato, certo? Quindi i resini probabilmente non vengono così. Beh, tutto che vedo è tronchi, luci, bluubi... Poi... Non c'era qualcosa di Bob? C'era qualcosa di blu? C'era il bambino di blu e i bloomeri, anche. C'era il suo capo, certo? Potremmo sia una scuola. O... Potremmo sia il risultato di un uomo. Nel momento, in seguito, non c'è il risultato di pensare. Ok, ora... Iniziamo la scuola. Iniziamo la scuola. Iniziamo la scuola. Iniziamo. Iniziamo. Iniziamo che hai scuola. è è è è è è è ok ok si è 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 Sì Buon no no vabbè hanno visto che ha una forma ma c'è la immazione io non potevo contattaccare perché c'è l'animazione devo davvero rifarmelo tutto ma perché? ma avevo anche... no vengono 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 si si Ma non dovrebbe diventare tutto blu, ma è completamente casuale quella roba. E' completamente casuale. Io mi avevo anche potenziato, ce l'avevo già fatto tutto questo? Io adesso dormo, più per salvare che per recuperare salute. Sao le tante, ok. via 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 no bene pericolo scappato dov'è anche poi dov'è là ma perché non l'app non può essere così difficile vai vi taglio tutto il dialogo e siamo di nuovo qui vaffanculo chiamiamolo così è chiaro che tu si è spinto questa è la microsoft ogni volta che premiamo F5 per riattivare la registrazione ok ogni volta che premiamo F5 è buono buono che che qui non so nooo basta lo salto fanculo allora stavolta non ho riavviato più lennisima volta con il video ehm volevo salire quello che vi dico allora prima no non voglio rifarmi di roba più caldo quindi il problema è che ogni volta devo dipendere da cioè devo farmi 40.000 passi indietro quindi quello che è avuto mi rompe molto i coglioni perché rifarmi banalmente lo scontro cioè sti cazzi vedo non è chissà quello il problema e ogni volta sta lì a farmi tutto eh c'è anche una foto lì eh i stonks potenziamo buono tornato taliente la dobbiamo ancora provare prima di fare quello però oh oh man credo che i bambini in città vorranno vedere questo ci renderebbe ok prendiamo questa foto qui la foto l'ho fatta a questo c'è la foto l'ho fatta qui e non quella ma vaffanculo no c'è ma perchè andiamo ti dispiace ok tue ma non che ti dispiace non 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 ti dispiace andiamo di là poi aspetta lo seguiamo non in più riempa come un bianco di bianco in Sapao bene, allora dovrebbe essere uno vicino siamo ancora qui? vai io ti prego, credo che lo sto prendendo ok non c'è un bianco in questo bianco c'è qualcosa in Bob's rhyme che stiamo perdendo? è il bianco di bianco e anche i bianco i bianco i bianco? non c'è un bianco non c'è un bianco non c'è un bianco ma anche un bianco penso che sia questo o che o che c'è non c'è un bianco è un bianco è un bianco ah è un bianco ok cazzo ok non mi aspettavo così tanta strada nel salto ok ok, no buono no 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 va bene anche così quindi qui se vi dicessi questo cosa ho fatto ma sono tutti fermi più o meno no no devo fare una mossa e quindi devo togliere la felpa troppo caldo e cominciare più sopportabile ho dovuto accendere il condizionatore perchè non vengono i capelli bagnanti quindi ho detto asciughiamoli in maniera un po' colto rossa ecco ho un caldo del signore quindi ho fatto una faica invece che io non ho una maglietta che ho sempre beso ok e cominciare che probabilmente prendeva il volo ho un caldo c'è una camicia wow wow è crescendo qua ci siamo eh il momento questo è che deve essere pieno di resino eh il caldo è tutto guarda solo un piccolo ah proprio qui e ok and la cosa è che la cosa è che chi è che non lo so non lo so è è è è questo è che non possiamo Non possiamo tornare a Sepul senza più resina. Ah non che, me li dici. Non so di dove mi trovo a girare la cazzo con la mappa. Stai impazzito. Andiamo lì. Eh beh, che non lo so io. Allora, gli zombie li combattono ancora in piedi. Ok. Ok. Merda. No merda, fanculo cazzo. Andato. 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 Che cosa? Va bene, l'avremmo già avuta questa discussione. Nel passato, tanta prova si impegnava per garantire giustizia anche a coloro che erano detenuti incontrovertibilmente incolpevoli. Tutti i condannati avevano diritto alla prova dell'acqua in sostituzione della pena per il fine di cui erano accusati. La prova offriva la possibilità di dimostrare la propria innocenza, ma era così temuta che solo in pochi avevano il coraggio di affrontarla, scegliendo così di scontare la propria pena a prescindere da quanto fosse dura. Ok. Andiamo. Che culo di merda. Che buco di culo. Vedrete che ho matato a questa muraglia degna del dei livelli della terza Crash Bandicoot. Ok. Andiamo. Ok, attenzione forziere. Ho sentito un suono? Mi sono immaginato questo suono. Grande, sono veramente il più forte del mondo. Eh, niente. E quindi, perdonatemi, per i milioni di... Andiamo, oppure no. Vabbè, certo, prima finisci. Quindi è buono per me. Quindi, uh, io, sto andando a camminare a questa porta. Ci hanno offerto un'alternativa per combattere. Tu potresti tornare a casa. Un pass pesce. Sto dicendo, ovviamente, chiedere un pubblico. Non sto chiedendo un pubblico con qualcuno che apprende la gente. Quindi devi continuare a combattere. E la cosa? La mia cosa è la mia, la mia, la mia, la mia... ...è la mia. E' stato un pubblico con un pubblico con un pubblico con un pubblico. E' un salto, io sono avanti a te o a te, e mi è il pubblico. E' lo scoperto? E' lo scoperto? Inoltre! E' lo scoperto? Mi piace? Allora, sono generabile fuoco. Ok. No, piuttosto che vi devo mettermi a montare la sciocca di finale. C'è piuttosto che ho finito la serie, dovevo mettermi a montare la sciocca di finale. Cosa cazzo è di me? Diciotto di gennaio? Non va, qua è una pazza, se non è un po' di... Ucchister! Nooo, merda! Ok. Non è... Ma lo fa davvero sull'anello e l'hang. Perché... Vorrei capire... Perciò non so... E piuttosto è quando mi laggero, non capito i giochi su PC. Lì il mio PC non performa più che una volta. E va bene, però... In modalità prestazioni sotto sto con 5, non dico che il gioco dovrebbe volare, ma... Quasi... Che non è giustificato il fatto che è anche un patto tecnico, che... Mi può dire, vabbè... Cioè... Nooo, non ha anche... Buono tecnicamente per tra vita, però... ... Che si ferma lì... Niente di creare... Non ho capito cosa ha fatto... Ok... In vigore... Bella... Ho due robe che mi seguono... Poi che sceglie... Eh... Dio-2... Adesso... 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 B tre... that was not my intention oh so what were you why the hell do you want me to request an audience the content really did get drive i'm scared if you keep yourself up it might draw her out once she's broken you better not say then you kill her then you kill her getting a v1 tough customer i'd say you're becoming reasonably deadly yes Sì, però il dialogo... Cioè, non interrompete i dialoghi in questa maniera, è fastidioso. Quella roba il cazzo è... Questa è sicuramente stendente dal cazzo. Quattro! Fai solo quello che fai meglio. Che mi danno i poteri ax. Non mi ricordo onestamente, manco il nome. Ok. I poteri ax da quelli che mi sblocca una cosa. Ok. Bene. Ottimo. Ti va di... Non farmi vedere magari anche... La tempesta mentre sono dentro un edificio. Cioè, io devo cercare gli Speranthus da me. In una mappa enorme due ente una tempesta. Non è che ci non è. No, ma la cosa della tempesta... È semplice. Io adesso vado a dormire. Cioè, vediamo se non la dormire la... La tolgo. Se la tolgo, riesco a mandarla via. Si. Così qua. No. Hai voglio di no. Ma... Cioè... Cioè... Che tu quella cazzo sei qui? Eh beh, è carino sapere cosa sto combattendo. Però non... Che tu la... Cioè... Che tu la la storia di Balu tre. That bad boy, sicuramente la ricordazione. Bad boy? Non so, no. Credo che siamo bene per restare. Va bene. La teresia di sperancio è stagionalmente un comodo andato, che muta però in blu acerto quando l'albero infiore. E' ritenuta Saga da tutti gli abitanti di Atia, che credono rappresenti la linfa vitale della loro terra. Pertanto, la sua raccolta, che causa l'avvistamento e la rapida morte degli sperancio, se da lungo verrà farlo meglio. Ecco qua. Questo dovrebbe essere sufficiente. C'è proprio dentro. E là io sono, pensando che sei vero su vostra non violente. Prado non ha bisogno di essere. Ho detto prima prima, ma è vero che sta ripetendo. Non succederà! Non lo farò! Non lo farò! Ma se non lo farò questa ragazza, tutti in Sipol potrebbero morire. Hai un sacco che nessuno possiede. È il tuo obiettivo di usare. La gente necessita il vostro aiuto. Non è il mio problema! Guarda, prendo il palo Resin, tornare a Sipol, salvare Brakebob, e tornare a New York. Certo, è tutto. Voi, molti persone sfruttano e morire per il Prado, non? Voi, veramente, che abbandono loro, a loro più vulnerabile? Ah, sì, capisco. Come la madre lei dice. Voi te, che... Voi... Non, 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 bene, bene. Voi tornare il nostro modo, non? Voi, tornare a Sipol con te. Voi che vuoi, non? Chce... E... Cosa! Cosa! Cosa ci sono? Cosa ci sono? Ah, funziona, c'è buona. Buon Dio, non lo sei mai aspettato, ehm, sì, ma è normale che sia tutto ancora con la tempesta, è quello che non comprendo, vabbè, comunque, amici, chiedi, a me il gioco non dispiace, ma più lo gioco a me non mi piace, per il semplice fatto che... mi fai salvare? Allora, vedi che continuo ancora, non capisco, comunque, penso che i vitri della malazione fanno vomitare, il mondo è sostanzialmente molto, molto vuoto e la tavola sembra partire ora, peccato che... Cristo, sono a sette ore e mezza, sette ore di gioco, 45% di storia, a sette ore di gioco, non lo so, non si ma a patta. Grazie a tutti.